Essere un'illustratrice è una passione, il talento poi te lo dicono gli altri se ce l'hai o meno. Per me disegnare è un'esigenza di linguaggio, io ho bisogno di esprimermi attraverso questa forma d'arte perché è il modo a me più congeniale per rielaborare idee e concetti. Rielaboro anche cose che mi sono successe fin dalla prima infanzia, noi comunque viviamo in Italia, un paese colmo di arte. Io mi ricordo per esempio quando pescavo dalle mensole della libreria di mio fratello maggiore i libri di mitologia per dire vedevo queste scene anche molto cruente. Le visioni estatiche delle statue dei santi provengono anche dalla mia adolescenza, dalla mia infanzia perché io sono cresciuta nell'Alto Piemonte dove c'è questo sistema di sacri monti, delle cappellette dove vengono rappresentate delle scene sacre con delle statue di proporzioni umane che fanno delle cose anche abbastanza inquietanti a volte. Sicuramente vedere questi scenari immersi magari in uno spettacolo naturale come può essere un bosco in montagna è una cosa che ti può segnare a livello immaginativo, piuttosto che tutto il discorso dei giardini iniziatici la Quinta de Regaleira a Sintra, la Scarzuola, i giardini di Bomarzo, il giardino dei Tarocchi di Niki de Sanfalla, il vittoriale di D'Annunzio. Queste cose poi segnano e creano quello che è il tuo immaginario. Non c'è un simbolo in particolare, ce ne sono un insieme perché proprio la mia poetica si basa sulla reinterpretazione degli archetipi. L'arte medievale mi interessa tantissimo perché non è un periodo storico dove gli artisti si preoccupano di copiare il reale. Tutto è trascendentale, tutto ha un doppio significato allegorico e simbolico ed è per questo che mi ispiro a questi codici perché oltre a come lo facciamo dobbiamo sempre chiederci cosa rappresentiamo e cosa vogliamo dire. A me piacciono quei disegni che una prima chiave di lettura sono quelli che sono e poi guardando meglio scopre tutto un lessico di significati altri che a una prima occhiata magari sono celati. Il mio metodo di lavoro si basa più sul disegno che sulla pittura perché mi interessa la linea, la pulizia della linea e rendere più iconico, statico e bidimensionale possibile il soggetto. Non mi interessa la prospettiva ben eseguita, non mi interessa la proporzione perfetta, mi interessa l'impatto visivo. Molte delle scelte che un illustratore fa sono molto consce, molto consapevoli. Altre volte tu fai una cosa e dopo scopri l'allegoria che hai disegnato che ricorre magari in più correnti, in più epoche storiche perché la valenza del simbolo è universale, è una cosa che ci portiamo dietro dagli albori della nostra civiltà fino a oggi e poi puoi subire delle variazioni ma comunque il messaggio è sempre veicolato. Parlare di creatività è un concetto un po' altisonante, cioè la creatività è quasi un concetto divino. Nella creatività secondo me c'è tantissimo metodo. Io ho notato che nel mio lavoro tutto ciò che mi piace non è necessariamente legato al mondo dell'illustrazione ma è esperienza in generale, legarsi e andare a visitare dei luoghi che sono di ispirazione perché noi siamo abituati a fruire tutto attraverso degli schermi e va benissimo, cioè anch'io lo faccio però non ti dà la stessa carica emotiva che ti può dare e sperire un posto dal vero. Veramente tu riesci a avere quella spinta, quella benzina per poi riproporre qualcosa di interessante nelle tue opere. Per me il disegno finito non è che il souvenir di un progetto, cioè quello che è molto importante è il processo, e come si arriva al risultato perché è quello che ti deve divertire, appassionare e dove devi concentrarti di più. Poi una volta che la cosa è fatta è sempre migliorabile e bisogna passare a altro. Gli uomini non sono veramente creativi nel senso che secondo me devono prima assorbire degli stimoli e poi rielaborarli e restituirli. A seconda di quanto assorbono e come riescono a restituire creano più o meno qualcosa di nuovo ma non è questo il punto. A me piace pensare che la vita sia la prima parte, un discorso appunto di assorbimento e rielaborazione e poi la seconda un momento di restituzione. A me sembra fortunatamente di essere entrata in questa seconda fase.